Da Caira a Monte Cassino alla riscoperta della Cavendish Road, la tradizionale passeggiata sui luoghi della memoria bellica tra storia e natura. Centinaia tra ragazzi, adulti, meno giovani ed intere famiglie hanno partecipato alla manifestazione organizzata dall'associazione Cassino Città per la Pace in collaborazione con Albaneta tenuta di Monte Cassino, 6 chilometri e mezzo con partenza da Caira fino a Monte Cassino. Lungo il tragitto, storici locali hanno illustrato l'importanza della Cavendish Road per la liberazione di Monte Cassino. Una giornata bellissima, emozionante sotto tutti i punti di vista, tantissima gente, molti giovani, molti ragazzi, molte famiglie che hanno voluto condividere con noi questa emozionante giornata sulla Cavendish Road. Giunto al sesto anno, un'iniziativa che si rinnova anno dopo anno, grazie agli enti, alle istituzioni che ci sono vicine e grazie anche alle nostre gradite ospiti, le ambasciatrici di Polonia e del Canada in Italia che ci hanno reso ancora più orgogliosi per la partecipazione di questa giornata. Da sei anni questo percorso di valorizzazione e di conoscenza ha l'obiettivo di trasmettere, soprattutto alle giovani generazioni, il significato della pace. Lungo il percorso sono state inaugurate anche diverse postazioni informative e iconografiche. Presente è anche la figlia del generale del secondo corpo d'armata polacco Anders, in vesti ufficiali di ambasciatrice. Questo è un significativo eccezionale per me, di vedere tanta gente insieme con me qua, una strada che io non avevo mai fatta, è veramente una strada durissima, dappertutto ci sono segni con la bandera polacca e uno si rende conto come tutto quello era difficile. Abbiamo vinto, sono veramente fiero al fatto che sono polacca e soprattutto sia della figlia del mio padre, General Anders, che era il comandante del secondo corpo polacco, che ha vinto la battaglia. È importante, è importante per gli adulti, ma soprattutto è importante per i giovani che conoscono la storia. Grazie. 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 Grazie.